vediamo alcune reazioni di salificazione in questo caso prenderemo in esempio la reazione tra degli acidi che possono essere sia ossiacidi che idracidi con degli idrossidi con delle basi il prodotto finale sarà dato da un sale più acqua l'equazione della reazione verrà scritta in forma molecolare non in forma dissociata che andremo a vedere nelle prossime lezioni e che rappresenta quella più corretta da un punto di vista formale la prima reazione è quella tra l'acido clorico HClO3 quindi che è un ossiacido che reagisce con un idrossido per dare origine a un sale AlClO3 preso tre volte più acqua anche qui dobbiamo stare attenti a che i stati di ossidazione non siano mutati come di fatto non lo sono perché l'alluminio è sempre più tre il cloro non muta perché è più cinque ed è più cinque e qui quindi possiamo dire che è una reazione non ossido riduttiva si procede poi al bilanciamento delle masse andando a contare il numero di atomi a sinistra e a destra della stessa specie che devono essere uguali la cosa che avevamo già detto è di stare attenti laddove troviamo degli anioni poliatomici derivanti dagli ossiacidi sia a sinistra che a destra in questo caso abbiamo questo gruppo ClO3- abbiamo tre gruppi per cui andiamo a inserire un 3 davanti all'acido clorico abbiamo bilanciato questo gruppo ClO3- procediamo a vedere l'alluminio l'alluminio è un atomo è un atomo quindi bilanciato passiamo adesso per finire agli ossigeni qui abbiamo 9 ossigeni più 3 abbiamo quindi tutto abbiamo 12 ossigeni quindi in questo caso ne abbiamo 9 anche in questo caso più 3 davanti all'acqua ci andrà a definire lo stesso numero di ossigeni gli idrogeni sono 6 a destra 3 derivanti dall'idrossido e 3 derivanti dall'acido clorico il prossimo esempio che andiamo a prendere è quello relativo all'acido solfidrico quindi un idracido H2S lo facciamo reggere per esempio con l'idrossido di potassio in questo caso otterremo il sale quindi il K2S più acqua abbiamo capito che sono reazioni non redox quindi procediamo direttamente al bilanciamento delle delle masse quindi in questo caso abbiamo due potassi a destra quindi inseriamo un 2 di fronte all'idrossido in questo modo abbiamo bilanciato il potassi ora vediamo gli zolfi sono 1 e 1 già bilanciati quindi verifichiamo gli idrogeni che sono 2 più 2 è 4 quindi inseriamo un 2 di fronte all'acqua abbiamo bilanciato gli ossigeni sono 2 derivanti dall'acqua e 2 derivanti dall'idrossido di potassio noteremo quindi che il potassio è andato a sostituire un idrogeno e quindi ha generato questo sale vediamo adesso di prendere in esame per esempio la reazione tra acido solforico più idrossido di calcio quindi cosa accadrà che il calcio andrà a sostituire l'idrogeno poiché il calcio è bivalente quindi in questo caso si formerà solfato di calcio più acqua volendo determinare i stati di ossidazione vedete qui c'è il gruppo solfato lo ione solfato che è identico a questo per cui lo zolfo qui assumerà valore più 6 come lo sarà qui il calcio è più 2 più 2 quindi è una reazione le molecole sono perfettamente bilanciate tra di loro andiamo a verificare adesso il numero di moli quindi abbiamo un atomo di calcio a sinistra un atomo di calcio a destra perfettamente bilanciati un gruppo solfato a sinistra e un gruppo solfato a destra perfettamente bilanciati quindi non rimangono che determinare il numero di moli degli idrogeni qui ne abbiamo due idrogeni più 2 4 quindi inseriamo un 2 davanti all'acqua e abbiamo anche in questo modo bilanciato l'ossigeno vediamo un'ulteriore reazione tra l'acido nitrico più l'idrossido di sodio la la reazione mi darà nitrato di sodio più acqua bene anche qui il sodio l'azoto nell'ione nitrato mantiene lo stato di ossidazione più 5 il sodio è sempre più 1 quindi questa è una reazione non redox di salificazione formando un sale solubile in acqua procediamo al bilanciamento quindi abbiamo i due gruppi nitrati sono quindi costituiti da 1 a sinistra e da 1 a destra il sodio è 1 anche questo caso è 1 gli idrogeni saranno 2 quello derivante dell'acido nitrico e quello derivante dell'idrossido di sodio e gli ossigeni saranno in tutto 4 a sinistra 3 più 1 4 3 più 1 4 quindi questa reazione è perfettamente bilanciata ricordiamoci che una volta bilanciata la reazione dobbiamo leggere correttamente i coefficienti stechiometrici i quali saranno utilissimi nel caso in cui faremo dei calcoli stechiometrici nella reazione negli equilibri in cui bisogna trovare le masse o il gas sviluppato viene scorrendo quindi la prima reazione mi dice che l'acido clorico quindi reagisce con 3 moli rispetto all'idrossido di alluminio una mole per darmi una mole di clorato di alluminio e 3 moli di acqua in questo caso il rapporto di reazione tra l'acido solfidrico e l'idrossido di sodio è di 1 a 2 quindi una mole di acido solfidrico reagendo con 2 mole di idrossido di potassio darà una mole di solfuro di potassio più 2 moli di acqua in questo caso ugualmente una mole di acido solforico reagendo con una mole di idrossido di calcio darà origine a una mole di solfato di calcio e a 2 moli di acqua in questo caso in questa reazione i rapporti molari sono tutti di 1 a 1 quindi la reazione è nei seguenti rapporti la prossima lezione andremo ad esaminare altre reazioni di saldificazione se vi è piaciuta la lezione iscrivetevi al mio canale o schiacciate un like a 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